Archiviata per prescrizione in Svezia l'accusa di molestie sessuali nei confronti di Julian Assange. Ma il braccio di ferro tra il fondatore di Wikileaks e la giustizia continua perché resta imputato per l'accusa di stupro, reato che ha una prescrizione di 5 anni più lunga. E il Regno Unito annuncia che presenterà una formale nota di protesta all'Equador per l'asilo concesso ad Assange nella propria ambasciata a Londra, dove è asserraiato dal giugno del 2012. La decisione era attesa, spiega l'avvocato svedese di Assange, ma è una questione che solleva tanti dubbi intorno a come l'accusa abbia trattato questo caso. Assange in un comunicato ribadisce la sua innocenza sostenendo che la procura svedese si sia rifiutata di sentire la sua versione dei fatti nonostante lui abbia offerto ai magistrati di interrogarlo a Londra. Il giornalista 44enne teme che una volta affidato al governo svedese finirebbe estradato negli Stati Uniti, dove rischia un'accusa di spionaggio.